Per preparare dei mostaccioli napoletani morbidi e speziati, inizia tostando 120 grammi di nocciole in forno statico a 190 gradi centigradi per 5 minuti, poi sminuzzale grossolanamente per ottenere una granella di nocciole. Quindi passa a tostare su fiamma dolce 4 cucchiaini di cannella, 3 cucchiaini di noce moscata, un cucchiaino di chiodi di garofano e un cucchiaino di pepe nero. Mescola le spezie e togliele dal fuoco quando inizieranno a sprigionare il loro profumo. Poi versa in una ciotola 200 millilitri d'acqua e scioglie nell'acqua 8 grammi di bicarbonato di ammonio. Aggiungi anche 200 grammi di zucchero semolato, la granella di nocciole, le spezie precedentemente tostate, la scorza grattugiata di un'arancia biologica, 80 grammi di miele, e 50 grammi di burro fuso. frulla brevemente e quindi aggiungi mezzo cucchiaino di sale, 500 grammi di farina 00, con 25 grammi di cacao amaro, setacciandoli insieme. mescola fino a quando possibile con una spatola. e poi impasta brevemente a mano fino ad ottenere un impasto omogeneo. rivesti con pellicola trasparente e quindi lascia riposare in frigorifero per almeno un'ora. dopo il necessario tempo di riposo stendi l'impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato, fino ad ottenere un disco di pasta alto circa un centimetro. interno più 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 quindi ricava dei rombi usando il tagliapasta e adagiali su due o tre placche da forno rivestite con carta da forno. Dovrai ottenere circa 30 mostaccioli, a questo punto inforna in forno statico preriscaldato a 180 gradi centigradi per 12-14 minuti. Lasciali raffreddare e nel frattempo sciogli a bagnomaria 700 grammi di cioccolato fondente. Immergi i mostaccioli nel cioccolato fondente e lascia solidificare il cioccolato portandoli in frigorifero. Guarda il prossimo video e iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video. Grazie. Grazie. Grazie.